Prime conferenze stampa in casa Avellino qui nel ritiro a Sturno, innanzitutto si è presentato il neoportiere dei Biancoverdi, Francesco Forte, che ha fatto un tuffo nel passato ricordando la sua prima volta d'avversario al Partenio Lombardi. Avevo appena fatto 18 anni, non avevo fatto abbastanza gavetta per essere all'altezza di giocare ad Avellino, appena c'è stata l'opportunità di venire ad Avellino non ho dubitato un momento perché Avellino è una tappa fondamentale per un giocatore, tutti credo che vorrebbero far parte di una società così gloriosa e storica del calcio italiano, quindi ne sono contentissimo, sono motivatissimo per far bene. La società è molto ambiziosa e sono felicissimo di farne parte. Subito dopo le dichiarazioni di Gabriele Rocchi, difensore ex-cavese pronto a consacrarsi all'ombra del Partenio, almeno così spera. Ogni domenica bisogna mentalizzarsi per affrontare delle battaglie, noi sappiamo ciò che valiamo, sappiamo che abbiamo un allenatore che ha vinto tanto, che ci può trasmettere la mentalità vincente. Siamo un gruppo nuovo, dovremo lavorare tanto per comunque trovare i meccanismi giusti, arriveranno altri giocatori importanti per darci una mano e noi dobbiamo solo pensare a noi stessi e a concentrarci su quello che sono le nostre qualità. Poi una volta che ci mettiamo la concentrazione, la voglia di fare bene, la cattiveria, penso che non ci siano problemi. Intanto cresce spasmodica l'attesa per il ritorno in bianco-verde di Gigi Castaldo, che già nelle prossime ore potrebbe risolvere l'ultimo anno di contratto che lo lega alla Casertana ed aggregarsi alla corte di Mr. Braia.